Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Una gita scolastica per celebrare il diploma si è trasformata in una tragedia sull'isola di Java, in Indonesia. Un autobus con a bordo più di 60 studenti si è schiantato contro un'auto e tre moto, provocando una strage. Secondo le prime ricostruzioni, il bus che trasportava la scolaresca ha sbandato per cause ancora da accertare, finendo per urtare gli altri veicoli. Il mezzo avrebbe percorso a forte velocità una strada in discesa, terminando la sua corsa contro un palo della luce. Si sospetta che un malfunzionamento dei freni possa essere la causa dell'incidente. Il bilancio è tragico, almeno 11 persone hanno perso la vita, tra cui 9 studenti delle scuole superiori. Le altre vittime sono un insegnante e un motociclista. I feriti sono 13 in condizioni gravi, e 40 con ferite lievi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie